Terrorismo e lotta contro l'ISIL. Sono questi i temi principali al centro della visita ufficiale a Istanbul del vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Accompagnato dalla moglie, il numero due statunitense ha visitato la Moschea Blu, nel centrale quartiere di Sultanahmet, dove è reso omaggio alle vittime dell'attacco del 12 gennaio. Due giorni in Turchia, dove vedrà il presidente Erdogan e il premier Davutoglu. Durante un incontro con i rappresentanti della società civile a Istanbul, Joe Biden si è detto intanto rammaricato perché la Turchia non dà l'esempio sulla libertà di espressione. Quando i media vengono intimiditi, ha detto, o i giornalisti imprigionati, non siamo davanti al tipo di esempio che si dovrebbe dare.